buongiorno a tutti vi parla di unicorno 007 insieme a inscriviamoci nella chat però scusa va bene insieme a però dai rispondi di alias 0045 ok continuiamo comunque la telefonata perchè lo sto telefonando questo scheletro con la cintura questo come vedete capito da te sta per iniziare siamo i due medici speriamo di essere diciamo che faccia no ok dove sei? dove sei? ciao no 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 non ti trovo più sei nella squadra blu vero è nella squadra blu vabbè andiamo a cercarlo questa sarebbe la nostra puntata di natale aspettate che lo richiamo no un attimo c'è stato un contrattempo che lui è andato a finire nell'altra squadra comunque aspetti eccoti qua eccoti qua vai eccoci siamo di nuovo in onda perchè non riuscivo più a trovarlo perciò ok ecco siamo i due medici perciò dobbiamo andare ad attaccare io uso le ragnatele vai attento blu ecco ti ha ucciso bravo devi leggere nella chat hai capito? si lo so ma è molto meglio così e inizia che hai già scritto dove sei? e tu non mi rispondevi cioè se stai fermo facciamo un attacco combinato i miei dici comunque sono di difesa comunque per i nostri ragazzi che ci seguono sarebbe molto bello fargli gli auguri insieme dov'è che sei andato? eeeh facciamo gli auguri insieme se stai fermo? oh dai insomma la foto ricordo ahia perchè metti le ragnatele mi vuoi fermare? grazie oh si esatto voglio impedirti di arrivare sembri più piccolo del solito vai io ti seguo se vuoi l'invisible vai io ti seguo anzi ok no non stare davanti mi copri va bene così te fai l'esca vieni vieni seguimi seguimi te fai l'esca davanti agli altri wow tanana ok vai lì guarda oh aspetta non attaccare loro è una trappola ciao zombie attento dietro di te attento dietro di te vieni qua ehi dove dietro di me eh no adesso sono passati quelli con la ragnatela aspetta no aspetta aspetta oh mio dio gli zombie mi stanno uccidendo ti aiuto sono aggressivi sti zombie ok andiamo a passato uno con la nostra bandiera oh blu 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 lo so ok no ho usato le ragnatele aspetta anch'io no se muore questo zombie ma porca miseria ma porca miseria oh ne ho ucciso uno ok sono morto io ne ho ucciso uno invece bene torno lì sei felice? cosa che hai detto? sei felice? si ben ne ho ucciso uno ehm i due medici non stanno facendo un buon lavoro perchè no anzi lui si io no quindi adesso torno lì perchè ho già operato due pazienti d'urgenza ok dov'è che sei? mentre uccidevo l'agente invece tu non hai fatto niente quindi fai schifo e magari sapessi dove sei? ehm sto battendo sul fronte ok ho capito aspetta ti aiuto no quello lì ti uccide un pochino ok anch'io ok no aspetta mi aspetta mi ho fatto apposta morire perchè ok dove sei? dove sei? ok sta fermo però dai oh dai oh dai oh ti ho detto di star fermo ok bene attenzione c'è gli dietro un fire oh no perchè hai fatto così? oh così la muzzo i medici dovrebbero essere di difesa però vabbè ok amore ok 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 non stavo inseguendo me per fortuna bene guardalo là guardalo là che si accucciato guardalo là che si accucciato guardalo guardalo che lo uccido mori 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 come non vedi niente dove sei? e a me sta laggando altro che non vedi niente ok ok su qui che sta continuando a mettere mori anche tu no mi odio che già intanto non ti vedo sono morto ahia anche lui mi sta uccidendo vieni qua vieni qua bravo vieni vieni bravo ok lo zombie è rimasto qui fermo e quindi lo sto attaccando la nostra puntata di natale eccoti la vai oh ti ho visto uccidiamo quello lì ecco vai questa qua uccidiamola quanto spirito natalizio in questo gioco si muore io vi sto attaccando tutti alla casaccia non mi colpisce nessuno e aspetta questo video chiamalo lo spirito natalizio by alias 045 e poi sotto in piccolo scrivi anche il tuo nome no oh barbone no seriamente chiamalo così viene molto faigo no tuoi spigiochi sono già morto spigiochi mi devi dei soldi a proposito spigiochi mi devi dei soldi eccoti là eccoti so che mi stai guardando sei il mio più grande fan ma mi devi dei soldi no la parma è messa la patra la patria mi segue ardentemente vieni qui la stessa che metto un po' di ragazzine ok ah ma perchè ha toccato me scusa non lo so su andiamo ok io ho quasi rotto la spada d'oro ma cosa brucia perché guarda che si ripara automaticamente no va che ti rimane via per un po' perché sei pieno aspetta non sto capendo più niente perché vada no ma perché attento attento ma se si ripara automaticamente cosa dici almeno la mia si ripara automaticamente io scappo vai 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 mi hanno colpito con qualcosa di stordente eh ma va facciamo aspetta i medici i medici moriranno io faccio soldato io faccio un attacco dall'altro io faccio il ninja non puoi come fai davvero come no e come fai hai premium eh forse eh ma va fai soldato no io faccio l'arcere è molto più figo ok dai allora lo attacchiamo io faccio l'attacco dall'altro oh ma mi stimo troppo si perchè dai vieni che ti forza ti sei accorto di essere andiamo all'attacco andiamo all'attacco ma non ti sei accorto di essere un po' groteschio che è rimasto per strada e lo stanno sbattendo oh mio dio hai ragione sento offesa per i teschi rimasti per strada no aiuto 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 aiutami qua si vede niente si è vero oh no l'affassino l'affassino no 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 mi sta uccidendo mi sta uccidendo aaaah oh sono ancora vivo sono ancora vivo e vai io sto distruggendo un po' di zombie col mio modo chi è stato mi hai colpito con una freccia no laga 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 oh ti ho visto ho trovato una freccia allo zombie grande fra qui adesso ahia oh via via esci freccia freccia mi sta laggando è una cosa bruttissima hai visto l'ho ucciso eh ma va eh mi frega stai registrando e questo non serve al pieno di gente cioè mi pare anche strano che non l'archi allora io faccio la mia attacca arciere dai ok dai arciere oh bello mi sono uccidato in realtà no no adesso si anche a me mi hanno ucciso maledetto in un modo strano aspetta facciamo i murcieri però sta fermo sta fermo dove sei dai spari via ok io vado ma io non capisco io mangio la carne e non mi cura la vita anche a me strano scusa non ha senso hai una freccia conficcata in testa senti io io faccio molto divertente faccio un attacco allora vieni vieni un attacco tutto di corsa dai no 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 aspetta aspetta devo uccidere un tizio col piccone di diamante si ma lui ti uccide subito son fortissimi quelli ah aspetta no no non devo star qui ho sbagliato tutto porca miseria allora io ti aspetto te vieni qua io ti vai a vai l'attacco dei blu ok ok io sto attaccando dei blu bene bravo appena ti vedo vengo con te sono nella piazza con la fontana è presente? no vai dove c'è quello zombie i due indicazioni stradali gira a destra dopo la piazza con la fontana emm vieni dove c'è la base dei blu dove c'è la bandiera dove sei? sto cercando di ucciderla mio dio uno zombie mio dio uno zombie mio dio uno zombie ahhh ok è morto vero? già è morto torna dove c'è la base dei blu dove c'è la base dei blu nooo io andrò suicidarmi no mi hanno ucciso vabbè vabbè vai gli attacco con questo non sono uscito a suicidarmi io non riesco a saltare ok eh non posso sputare la roba e lo so è strano che il tuo personaggio faccia così una cosa brutta o se vieni qui dai attacchiamo in du 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 ok stavo in du 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 già già non mi sta venendo nessuno mi ha visto va qua il paese non mi sta venendo nessuno mi ha visto go to this paese ha bella questa traduzione eh c'è inglese l'inglese di espigiochi è molto meglio va quel paese va quel paese ok eh guarda che espigiochi ha fatto anche un canale in inglese davvero? e se stai parlando di espigiochi questo è il nostro video già hai ragione vabbè ma è divertente parlare di espigiochi eh espigiochi come fai che il mio riesce è così popoloso ah 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 lo sto cadendo popolari eh ma e infatti l'ho fatto apposta ok è questo oh aspetta vai lui alla bandiera del blu grande e adesso è stato ucciso vabbè gli assassini sono una cosa impossibile perchè ci uccidano in un colpo sono assassini siete degli assassini ok attacco vai 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 ah non c'è la bandiera vai via di qua vai vai ok mi sta uccidendo in un modo ecco sono morto questo video va verso la sua conclusione vero perchè mi sta laggando troppo già mi faccio al solito mi attacco ultra ma che kit ci sono a disposizione? e non lo sai? no oh porca è un attacco di 3 ah no ok e dai me lo dici? e a chi ti ha a disposizione? e allora c'è ivy che è pesante c'è seduto dagli diamanti cosa cos'è? e avy ok e avy e avy poi adesso sta proprio finendo questo video perchè e ciao povero video mio dio mi piace video scusa ok basta ok guarda 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 non mi vedono non mi vedono sono invisibile te mi vedi? you are invisible e non so nemmeno dove sei come farci a vederti vabbè io ho finito ciao